Allora, un punto della situazione dopo le elezioni americane che hanno visto la vittoria di Donaldo. Torno a fare un video sulla geopolitica, dando una visione un po' differente rispetto a quello che comunque dice la massa, nel senso che io dico quello che penso, io dico, e di solito non mi sbaglio mai, ho sempre avuto una visione differente e guarda caso poi ho sempre avuto ragione su tantissimi fatti. Io parlavo di fatti che sarebbero poi avvenuti ultimamente, ne parlavo già anni fa, come la situazione è quella nel Donbass. Allora, e la gente non sapeva neanche dov'era. Elezioni americane, vabbè, si sapeva che Donaldo avrebbe vinto le elezioni americane, anche perché Donaldo parla, diciamo, di più alla pancia della gente, un po' come è successo in Italia, dove chi parla alla pancia della gente comunque magari va a vincere. Salvo poi, una volta magari al governo, fare l'esattamente opposto, fare nulla. Allora, diciamo che io non mi sono neanche interessato molto a queste elezioni americane, tanto è vero che praticamente non sapevo neanche che si svolgevano ieri. Questo è per quanto riguarda l'interesse. Da dove nasce questo mio disinteresse alle elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America? Adesso poi mi immagino già i commenti di No, ma l'ambre, ma cosa stai dicendo? Ma non è così, ma lui è differente, ma è quello lì, quali là, i democratici, i repubblicani, i qua. Cioè, voi dovete capire una cosa, ragazzi, perché se non avete ancora capito questo e non voglio poi fare più video sul discorso politico, geopolitico, eccetera, eccetera. Vi voglio concentrare su altre cose, in particolare sul mio futuro, ok? Se voi pensate che negli Stati Uniti d'America il Presidente degli Stati Uniti d'America è quello che lui decide, comanda, dà le direttive, vuol dire che non avete capito nulla di quanto è complesso il mondo della geopolitica e che cosa c'è dietro. Cioè, voi pensate che negli ultimi anni c'era Biden che dava le direttive facciamo di qui, facciamo di là, facciamo di là. Io sono cose che ho sempre detto, che sosterrò sempre. Il Presidente degli Stati Uniti d'America non conta niente, non conta niente. Poteva vincere anche Pinco Pallino è il contentino del popolino che va a votare, ma chi tira le file stanno da tutt'altra parte. Cioè, se voi non avete ancora capito che chi tira le file non si espone, chi decide non si espone e sta da tutt'altra parte, anzi, vi dico anche da dove sta, guardate, ve lo dico adesso dove sto facendo il video, sta là il nord, sta esattamente in quella parte lì, nord spostato di là, è lì che tirano i fili perché gli Stati Uniti d'America sono una delle tante loro colonie, quindi per cui noi non siamo una colonia americana, no, noi siamo una colonia di quelli su là, su là. Quindi l'elezione di Donald non è che cambierà tantissimo, diciamo sposterà molto, a livello geopolitico loro decidono che cosa fare, sicuramente magari dal nostro punto di vista per quanto riguarda gli europei, sicuramente è una cosa magari ci farà qualche dazio, qualcosa, sicuramente non saranno qui a dare una mano a noi. Dal punto di vista, diciamo, geopolitico, penso che si concentreranno più, diciamo, nei confronti dell'area orientale, cino-orientale, e diciamo che questo faro che c'è si sposterà più verso di là e alcune situazioni verranno un po' più dimenticate. e il mondo oggi è interconnesso. Non pensiate che uno sia contro l'altro. Tutti sono lì seduti allo stesso tavolo. Io credo che purtroppo la situazione non è bella perché non è tanto il problema dell'avanzamento, cioè del fatto che in alcune nazioni alcuni sistemi basta vedere quello che mi dice Zaccaria dal Messico dove la gente lavora per sé 700 ore al mese forse i primi anni fanno una settimana di ferie poi ne fanno due e fanno cos'è dieci ore al giorno di lavoro con quindici giorni di ferie all'anno. Il problema non è Donaldo. Il problema è l'imposizione di un sistema che è quello liberale, neoliberista di cui Donaldo è uno dei principali artefici non solo lui anche quello di prima 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 di prima di prima se partiamo a Reagan era uno di quelli. L'imposizione di un sistema neoliberista in quello che era la vecchia Europa dove invece avevamo un'imposizione differente avevamo un'imposizione più sociale dove esisteva un po' più di socialità un po' più di imposizione un po' più chiamiamolo sociale come un po' in Germania che la Germania ti dica una repubblica una Bundesrepublik sociale e quindi il vero problema è l'imposizione di questo sistema che è avanzato anche da noi finita gli anni 90 scomparsa la sinistra in Italia non c'è più la sinistra che è da 30 anni ed è arrivato questo sistema di cui Donaldo Harris Biden Obama tutti tutti questo sistema liberista in cui sta portando la gente ad avere sempre meno soldi a lavorare sempre di più essere sempre più spianata quando invece negli anni 80 c'era un altro sistema una contrapposizione e un operaio poteva farsi la casa e mantenere due figli oggi questo sistema lo vedi in Germania fuori da un autogrill dove vedi questa gente che è felice oggi di essere in questo sistema che gli fa lavorare 6-7 giorni su 7 per un pugno di riso la cosa sconvolgente è il fatto che c'è gente che è felice felice di questo sistema che li applaude oppure c'è gente oppure c'è gente che è spianata sfruttata con un costo della vita assurdo a fronte dei stipendi allucinanti in una nazione in cui non ci abbiamo neanche un reddito minimo in cui hanno tolto anche addirittura il reddito di cittadinanza addirittura il costo della vita è assurdo assurdo oggi guadagnare 1500 euro al mese in Italia arrivi forse la terza settimana e sei qui e la cosa assurda è vedere tutta una serie di persone normali magari che fanno fatica anche a tirare la fine del mese essere felici per l'elezione di Donald come se per loro cambiasse qualcosa no non cambia niente sarà sempre peggio cambierà qualcosa quando cambierà il sistema non ci sarà più questo sistema liberista ma la gente è contenta di vivere in questa situazione per cui io dico che in futuro cosa cambia? non cambia niente sarà sempre peggio sarà sempre peggio sarà sempre peggio perché viviamo in un paese con un costo della vita assurdo a fronte di stipendi da vomita e non sono certo i liberisti che miglioreranno la vostra vita a fronte